E' iniziata in tarda mattinata ed è ancora in corso di svolgimento l'udienza decisiva del processo celebrato con rito abbreviato per la scomparsa di Michele Cilli, il 24enne Barlettano svanito nel nulla nel gennaio dello scorso anno che vede imputati i 34enni Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borracino. E' attesa in serata nell'aula bunker del carcere di Trani la sentenza del GUP Ivan Barlafante. Sarcina è accusato di omicidio volontario. Le telecamere attive la notte della scomparsa di Cilli registrarono il percorso compiuto in auto insieme alla vittima sino all'arrivo in un box di via Ofanto. Cosa sia accaduto in quel garage è stato permese al centro delle indagini degli inquirenti. Borracino è invece accusato di concorso in soppressione di cadavere, immortalato anche lui dalle telecamere mentre entrava nello stesso box con una tannica di benzina. Davanti al carcere di Trani attendono l'esito del processo le famiglie dei due imputati, convinte che i loro congiunti siano stati accusati senza prove valide. Innocenti, recita lo striscione apposto davanti all'istituto di pena dai parenti di Sarcina. Io ne parlo di mio figlio, è innocente, è innocente, lo dirò fino a quando Gesù mi diceva, è innocente e basta. L'opunione pubblica per questo l'hanno arrestato. Noi abbiamo messo la faccia come la devono mettere gli altri. Mio figlio è innocente, io non mi stancherò mai di dire che mio figlio è innocente. Hanno preso i primi due che si sono trovati forse al momento sbagliato o al posto sbagliato e basta, è finito tutto.